Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malattie di sport. Come vi ho anticipato ieri nel mio post, ho l'influenza a un ritorno dopo il covid di un mesetto fa, la febbre, ieri ho visto le partite e non ero in condizione di registrare il video, ci provo oggi, spero sia comprensibile la mia voce e non arrivino colpi di tosse a bloccare il video. Prima partita delle finale di Coppa Italia, Olimpia-Milano contro Brescia, come sapete ha vinto Brescia, un colpaccio a sorpresa senza dubbio perché Brescia era riduce da una caduta libera in campionato ma da un ottimo momento in Coppa e viceversa all'Olimpia invece sembrava nettamente in ripresa e affrontava questa Coppa Italia direi senza dubbio con i favori del pronostico. Invece Brescia ha vinto, ha vinto con merito, ha vinto come è stato correttamente detto due volte la gara come è evidente, una volta nel primo tempo quando ha sorpreso una Milano abulica, svogliata, indecente realmente da ogni punto di vista, è andata avanti di 18 punti Brescia, poi all'inizio del terzo quarto e di Milano aveva raddrizzato la partita alzando il livello. Brescia è una squadra che fa le Coppe, fa l'Euro Cup ma come sappiamo l'Euro Cup è un basket diverso rispetto a quello dell'Eurolega, la maggiore intensità difensiva, un maggiore cinismo, un datome entrato quasi a sorpresa quando si era fatto male Melli che aveva aiutato a raddrizzare la baracca, Milano insomma nel frattempo si era portato anche in vantaggio. E di Brescia l'ha rivinta e questo è l'aspetto ancora più importante di questa gara perché non avrei mai pensato che in un finale punto a punto in una gara che Milano aveva raddrizzato Brescia avrebbe potuto vincerla. Invece l'ha vinta, l'ha vinta grazie a giocate individuali importanti, l'ha stoppata nel finale su Heinz, grazie ai palloni rubati da Petrocelli su una pier totalmente imbabolata, grazie alla precisione di Madsenburg, ai rimbalzi di Nikolic, agli assist della valle. Una Brescia che è stata completa e ha giocato davvero una grande partita, però mi perdoneranno gli nomi di Magro in questa occasione, non possiamo non parlare di Milano soprattutto perché è incredibile quello che è accaduto. Ora, la stagione sta scivolando veramente in un nulla cosmico, Supercoppa persa in settembre, Eurolega in netta difficoltà, il sogno di playoff raggiungibili ma molto complicati, la Coppa Italia era un traguardo che non si poteva perdere, Milano l'ha perso nella maniera peggiore, soprattutto se pensiamo una cosa, Milano nell'ultime settimane, specialmente da quando è arrivata una pier, ha soltanto giocato in casa, non ha giocato in Eurolega perché correttamente a causa del terremoto in Turchia è stata annullata la gara, rinviata la gara col Fenerbahce, quindi la trasferta a Istanbul, ha giocato a Varese, quindi una trasferta vicinissima, ha avuto il tempo per allenarsi, ha avuto il tempo di inserire una pier, ora è possibile che dopo tutto questo tempo insieme questa squadra abbia partorito una prestazione così disastrosa da ogni punto di vista? Questo secondo me ci fa notare che c'è un male molto più profondo di quello che ci viene raccontato dall'inizio dell'anno nella formazione milanese, d'accordo gli infortuni, Pengos piuttosto che quello lunghissimo di Shields, benissimo, però Milano mi pare che giochi sempre con un roster di 12 e 5 giocatori in quintetto, ora è stato anche sostituito, anche il problema del playmaker che a lungo tempo c'è stato, ora con l'arrivo di Napier è stato coperto, eppure la squadra fa fatica da ogni punto di vista, ieri credo sia stato sbagliato tutto, non mi sono piaciute le rotazioni, non mi sono piaciute le scelte tecniche, certo è facile sparare dopo il 6 punteggio, però quindi è evidente che non c'è controprova, non sapremo mai come sarebbe andata se per esempio Voitman che si è atteso, si è faticato per aspettarlo e sta tornando a giocare come sa, eppure non ha giocato questa partita, perché la rotazione Tonut nel primo tempo è stato l'unico giocatore di Milano a dimostrare per quanto fosse in campo nel break decisivo, nel break abbondante di Brescia, ma era l'unico giocatore che stava dimostrando qualcosa dal punto di vista anche di voglia mentale, ha giocato solo 10 minuti in questa partita, da Tome è entrato solo per l'infortunio di Melli e poi dopo è stato un po' dimenticato nel finale, scelte anche di rotazioni che ho trovato molto poco chiare se non totalmente sbagliate, poi l'apprezzazione di Napier, Napier io per primo mi sono illuso da un punto di vista diciamo di osservatore di aver trovato un giocatore che stesse facendo così bene subito per Milano, invece credo che Napier alla prima prova realmente importante ha fallito completamente perché ha giocato male, ha forzato molto, ha perso dei palloni banalissimi, ha giocato una prestazione, ha avuto una prestazione terribile, così come l'Uvavu che nel finale ha fatto tante scelte sbagliate, compreso anche quel fallo che ha mandato Bassinburne in lunetta quando invece sarebbe stato meglio difendere. Tutto ciò per dire, ma è una squadra che gioca contro l'allenatore? Io ho questo dubbio, penso io, chiunque se lo porterà per tutta la stagione, Messina quanto pare aveva promesso che se le cose non fossero cambiate se ne sarebbe dato, non se ne va, ha detto anche quell'altro discorso sul fatto che da manager verrà valutato a fine anno, rimarrà sempre, ora per salvare questa stagione c'è vincere il campionato, ma anche ammesso che vincesse il campionato questo è sufficiente per giustificare i soldi spesi in un gruppo del genere, certo le alternative ora quale sono? Le alternative sono già ripartire a metà della stagione con un allenatore di progetto, che per me potrebbe essere anche un allenatore internazionale, mi viene in mente Sferopoulos per esempio, l'allenatore ex Olympiacos e Maccabi che è molto bravo e non credo stia allenando in questo momento, piuttosto che scelte interne, promuovere Fioretti e fare una sorta di autogestione come nella partita col Monaco, fino a fine stagione vedere come va, follie come chiamare Pozzecco, le lascerei perdere perché non siamo alla fiera del paese e quindi le sceneggiate, le magliette fuori, tutti amici eccetera, penso che lascerebbero il tempo che trovano per un progetto come questo che dovrebbe avere carattere internazionale, però credo sia il momento veramente di un bilancio, la sconfitta è molto più grave di quello che potrebbe sembrare, è una sconfitta disastrosa questa a mio avviso per l'Olimpia, senza dimenticare anche che Coach Magro, che è un buonissimo allenatore, ha penso anche da un punto di vista tattico completamente battuto Messina e lo staff milanese. Fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate di questa partita, del proseguo di questa Coppa Italia, complimenti vivissimi a Brescia e per Milano, veramente una bocciatura totale con questa sconfitta. Iscrivetevi al canale, vi aspetto, ciao a tutti, un bacio, più tardi il video anche di Varese contro Pesaro. Ciao a tutti, grazie, baci!